Questa mattina volevo parlare appunto di Rosmini e del tema della coscienza politica. Ora, in questo caso, il significato del termine coscienza, naturalmente il significato è collegato a quello di coscienza morale, ma leggermente diverso. Potremmo dire brevemente, qui si parla di coscienza come consapevolezza di sé e dello stare in comunità, in società, eccetera. Nelle dottrine etico-politiche e giuridiche rosminiane, il tema della coscienza politica appare rilevante nel senso che l'applicazione della tematica più generale della coscienza di sé e delle proprie condizioni soggettive al terreno politico-sociale implica la moralità, ma non solo. La persona, l'individuo rosminiano, presente ed operante nella società attraverso le diverse sue tipologie, appare a noi, questa persona protesa, a realizzare quell'appagamento del proprio io entro lo sviluppo delle potenzialità che sono indispensabili per essere uomo e per tendere al bene. L'uomo si rende consapevole, ecco il termine, consapevole, dell'essenzialità del proprio vivere in società, e poi specificamente in una comunità politica, ed opera affinché tutti gli uomini realizzino la propria felicità nel bene operare e nel diventare capaci di virtù e moralità. Quindi si opera perché si realizzi la moralità. Anche. In questo contesto però mi sembra che diverse siano le regole per realizzare la coesione sociale rispetto alle semplici norme morali riconosciute dalla coscienza. Ovviamente il tema della naturalità, delle norme morali, il diritto naturale, eccetera, è un tema estremamente vasto, io non posso qui affrontarlo, ma diamo per scontato che appunto ci sia in Rosmini una preeminenza della legge naturale. L'uomo politico è anche un uomo profondamente morale, cioè che applica le norme della moralità. Certo, per Rosmini questo è assoluto. Tuttavia, l'essere cosciente della propria presenza politica non è la stessa cosa dell'essere presente all'azione morale con una coscienza che giudica gli atti e le scelte. La coscienza politica richiede l'attuarsi di una dinamica complessa, di fronte alla quale la moralità potrebbe anche sembrare talvolta un elemento di disturbo. Parecchie opere rosminiane affrontano questo tema. Voglio dire disturbo, intendendo naturalmente, un elemento di problematica ulteriore. E faccio subito l'esempio che mi sta più a cuore. Le difficoltà rosminiane di applicazione di questa identificazione iuxta modum tra coscienza morale e coscienza politica apparvero bene entro le fasi cruciali di quel fattidico anno 1848 di gli anni fattidici 48-49 che io poi ho studiato abbastanza approfondito anche all'iniziare dall'edizione dell'opera della missione a Roma. Nel corso del 48 soprattutto il nostro pensatore cercò di far comprendere ai governi, all'opinione pubblica italiani che occorreva consolidare la coscienza politica degli italiani attraverso la realizzazione di una confederazione nazionale che unisse gli sforzi verso l'indipendenza dei governi e delle opinioni pubbliche dei vari stati all'ora esistente, unire gli sforzi e quindi realizzare questa unione federale. In questa sua azione egli guidò un negoziato tra i governanti italiani per indurli a stringere un accordo al fine di assicurare al popolo italiano la realizzazione del proprio scopo preciso diventare una sola società civile da prima e poi un solo Stato. L'ostacolo che si trovò di fronte fu duplice la politica espansionistica del regno di Sardegna che tendeva a subordinare la coscienza nazionale alla logica dinastica di casa Savoia l'abbiamo visto ieri sera la grande casa Savoia attraverso i suoi rami familiari e la sua grande dignità eccetera eccetera questo era un ostacolo. L'altro ostacolo più grave forse per certi versi era il papato, il papato temporale lo Stato della Chiesa che non accettava il percorso della nazione italiana verso l'indipendenza se esso significava la dichiarazione di guerra all'impero d'Austria. In questo secondo caso pareva che la coscienza etico-religiosa fondamentale interpretata dal papato indicasse di evitare la guerra e che la coscienza nazionale invece la considerasse come inevitabile questo era il dilemma il dilemma delle coscienze degli italiani specialmente dopo la famosa allocuzione di Pio IX del 29 aprile 1848 vissuta da Rosmini con forte partecipazione. Bene, io non tratterò di questo argomento se non alla fine di questa mia relazione ma vorrei dare soprattutto peso all'inquadramento del tema della coscienza politica come però una coscienza che opera in maniera molto complessa la cui Costituzione è opera piuttosto complessa. Insomma, in altre parole vorrei far notare che per Rosmini poi questo dilemma tra la coscienza morale fare la guerra e la coscienza politica dichiarare una guerra giusta e questo era il discorso non si può fare la guerra diceva il Papa si può fare una guerra giusta da parte degli italiani diceva Rosmini. Rosmini ci parla innanzitutto di coscienza sociale per la verità teniamo conto che i due testi fondamentali per cercare di capire cos'è in Rosmini la coscienza politica sono la filosofia del diritto e la filosofia della politica evidentemente e poi l'applicazione è nella missione a Roma l'applicazione. Così scrive Rosmini trago dal filosofia del diritto il secondo fattore della società abbiamo detto essere la coscienza sociale ossia la consapevolezza che l'uomo ha della cospirazione della propria volontà con quella di altri nel medesimo oggetto la qual coscienza ha più gradi di vero non tutti i membri di una società hanno un'eguale consapevolezza di dover cospirare o di cospirare realmente al fine della società e degli è anzi un sintomo che precede il discioglimento della società il venir meno ai membri delle medesime della coscienza sociale e quasi di null'altro ricordarsi che di ciò che ognuno fa individualmente. Rosmini adopera l'espressione coscienza sociale ma in realtà pensa alla coscienza che scaturisce dalla condizione umana in società proiettata alla polis cioè alla gestione consapevole della società entro un suo governo. Il problema fondamentale della coscienza sociale e quindi politica è quello di spiegare come si può gestire una coscienza che è insieme collettiva e individuale. Afferma Rosmini questa coscienza sociale è già un primo legame che gli uomini diciamo così è già un primo legame che gli unisce tra sé con essa ciascun uomo sente la propria esistenza sociale vive quasi di una nuova vita della vita del corpo collettivo mediante questo sentimento si accrescono le forze dell'individuo con la crescersi in lui il coraggio egli gode di non sentirsi più solo ma quasi di essere molti perché parte di molti. Quindi la coscienza sociale rende più sicuro l'individuo fornendogli strumenti per operare e ben sperare nella giustizia. l'individuo si sente proteso in questa coscienza collettiva ad avere la propria crescita di sicurezza e felicità. Il problema tuttavia di questa consapevolezza di essere al sicuro e di operare con tutti gli altri è per l'individuo quello di chiedersi questa mia consapevolezza mi dà mi assicura la felicità e questo è il problema eudemonologico trattato nell'ambito della filosofia della politica il problema eudemonologico della coscienza sociale e scrive così Rosmini qui ritorno ai temi della filosofia della politica di qualche anno anteriore alla filosofia del diritto nell'ideologia cioè a dire nel nuovo saggio dimostrai che la cognizione diretta va immune da errore ora il giudizio che produce l'appagamento è appunto diretto ed immediato sul proprio stato di contentezza ogni altro giudizio di riflessione può ingannarci ma il primo che facciamo sulla soddisfazione di tutti i nostri desideri e che costituisce la nostra coscienza eudemonologica non può perché non è figlio della libertà nostra ma della natura in questa affermazione Rosmini tende quindi a distinguere la coscienza sociale da quella della soddisfazione di ogni individuo di aver realizzato se stesso e di essere appagato il tema dell'appagamento è fondamentale l'elemento primo per parlare per dare un criterio importante al tema del progresso Rosmini non si è mai negato a affrontare un tema che sembrava tipicamente illuministico nel progresso ne ha parlato ne ha trattato ampiamente un'ottrina rosminiana del progresso non può prescindere dal considerare le capacità degli uomini di migliorare il proprio appagamento pertanto anche il miglioramento della coscienza sociale è un fattore potente di progresso la consapevolezza di essere appagati tuttavia asserisce Rosmini è un fatto naturale e qui ribadisce la coscienza eudemonologica è dunque un giudizio immediato e naturale che noi facciamo sulla soddisfazione dei nostri desideri quindi importante è questo il considerare la coscienza eudemonologica come un fatto immediato e non risultante da una consapevolezza riflessa significa che vi è una parte della vita umana che viene verificata dall'uomo nell'immediato che si sottrae a interpretazioni o a soggettive comprensioni infatti ribadisce Rosmini ma il giudizio nostro non è riflesso non trattasi di un atto secondario di intendimento ma di un atto primitivo con gli atti secondari e riflessi possiamo rappresentare a noi stessi tutto o parte lo stato nostro come se gli fosse cosa da noi diversa e così avviene che possiamo ingannarci ma con l'atto primo immediato l'intendimento giudica dello stato nostro non come cosa da noi divisa ma come nostro sentimento il giudizio espresso dall'uomo in quanto cittadino del proprio pagamento sociale si dovrebbe considerare quindi in un giudizio spontaneo sono contento di stare in questa condizione ma attenzione attenzione questo può celare degli insidie crea dei problemi ogni individuo per le proprie circostanze per le proprie esperienze si può considerare ipso fatto felice in un suo stato quasi tipo sentimentale questo tema controverso un tema diciamo su cui non ho trovato chiarezza assoluta consultando i testi di Rosmini il pagamento della coscienza sociale secondo Rosmini avviene secondo gradi e questi gradi sono quei gradi che determinano il configurarsi delle classi sociali scrive Rosmini i gradi adunque dell'intensità della coscienza sociale determinano un nuovo modo in nuovo modo le società partendole in classi diverse per una qualità aspettante alla maggiore o minore perfezione quindi ogni classe per le caratteristiche della propria coscienza ha un livello minimo di appagamento che è poi l'elemento determinante che tende alla realizzazione della coscienza potremmo dire il termine che non c'è di classe non esiste il termine coscienza di classe in Rosmini ovviamente ecco quando ogni individuo avrà conseguito il proprio appagamento ed avrà la propria coscienza odemologica piena allora potrà misurare il grado di perfezionamento conseguito all'interno di quella che è la dimensione della propria classe sociale oppure potrà verificare il decremento avvenuto ovviamente ci chiediamo ma queste classi sono stratificate sono immobili immutabili no questo assolutamente no scrive Rosmini il grado di consapevolezza di cui parliamo produce una notevole notabile scusate modificazione all'uniformità e all'intensità della cospirazione delle volontà se la consapevolezza si trasforma da un ordine di riflessione a un altro ecco quindi che è la riflessione che crea quindi un movimento una dinamica sociale diremmo noi oggi vediamo adesso quali sono le caratteristiche di queste stratificazioni come è la dinamica sociale beh la notissima dottrina dei tre tipi di società società domestica società civile società teocratica questa notissima teoria a me è sempre appare sempre più rilevante perché la logica con cui è pensata è veramente molto molto a me sempre sempre più attuale sono tempi oggi in cui riduciamo tutto alla sociologia o come filosofi riduciamo tutti al nichilismo cioè nichilismo vuol dire che rinunciamo a ragionare in termini di filosofia politica tutto lì non ci chiediamo più che cosa significa veramente realizzare una società politica giusta secondo Rosmini la società domestica è il nucleo naturale della vita umana la società teocratica è l'elemento sopranaturale che però si cala nella chiesa quasi naturalmente nella vita umana ed organizza l'esistenza verso la salvezza eterna potremmo dire elemento naturale è la società domestica elemento naturale trattino sopranaturale è la società teocratica la società civile è elemento creato dall'umano desiderio di rendere regolata la vita sociale la dialettica tra la vita delle diverse famiglie quindi è la società domestica che conta la società civile deve regolare i rapporti tra le famiglie questo è il tema fondamentale centrale nucleare di tutta la riflessione politica e sociale rosminiana come definisce Rosmini la società civile la società civile è un'unione di famiglie o di padri di famiglia attenzione perché è importante nello stato di natura una famiglia è indipendente dall'altra ma ella può con l'altra aver litigato per diritti incerti può dall'altra ricevere danno o anche aiuto e vantaggio allora la società civile si viene formando al fine di regolare termine fondamentale queste tendenze vertenze è una istituzione tendente a provvedere che la convivenza tra le diverse famiglie sia pacifica agnuna pregiudicevole a tutte vantaggiosa quindi la società civile provvede a questo scopo e allora non è una società questa naturale ma è una società riflessa creata dalla riflessione quindi artificiale osserva Rosmini da che si scorge prima che la natura umana esiste anteriormente alla società civile secondo che ella esiste con tutto il suo naturale sviluppo cioè con la moltiplicazione degli individui cioè la natura umana con la perpetuazione della specie mediante la società domestica terzo che la società civile in quant'è separata dalla domestica non ha luogo se non allora quando il gene umano diviso in più famiglie sente il bisogno di concertare un accordo tra di esse quarto che il fine prossimo della società civile è quello di regolare le relazioni fra più famiglie consistenti a ciò che convivano in modo più sicuro nel modo più sicuro e vantaggioso a ciascuna questa teoria della società civile ci può essere molto utile anche per giudicare sul tema della coscienza politica perché si tratta di appunto attraverso la società civile di dare alla vita delle famiglie quella chiarezza quella dimensione di pacificazione e di appagamento che è fondamentale scrive Rosmini se consideriamo i passi che deve fare l'intendimento umano affin di giungere al pensiero di costruire la società civile concependola opportuna al detto scopo essi sono molti cioè saltare a quell'ordine di riflessioni con cui l'uomo riflette sopra le vertenze delle varie famiglie fra loro e intende che si debbano determinare secondo l'equità e la prudenza risparmiando la violenza quindi la riflessione porta alla necessità di regolare le vertenze risparmiando con la prudenza la violenza quindi è naturale solo l'elemento familiare è invece artificiale l'elemento diciamo della società civile la società civile dunque non trae il suo cominciamento dalla conizione spontanea e naturale ma dalla libera riflessione ecco il termine è una libera riflessione i capi famiglia dicono vogliamo vivere in pace riflettiamo sul modo per poter vivere in pace questa è la impostazione teorica che dà Rosmini e sotto questo aspetto ella non è l'opera della natura e la società civile ma dell'industria dell'uomo onde può dirsi con la concia denominazione artificiale siccome è quella che non ha per fine prossimo un bene dato dalla natura ma un bene trovato dall'ingegno e dall'arte umana continuiamo a vedere come Rosmini intende la società civile ribadisce ribadisce Rosmini è la società civile l'unione di un certo numero di padri i quali consentono ecco consentono si mettono d'accordo che la modalità dei diritti da essi amministrati venga regolata perpetuamente da una solamente questa solamente vuol dire da un'organizzazione politica che sarebbe appunto quella della società civile Rosmini espone la nota sua teoria che limita l'esplicitazione piena della gestione della società civile e nel senso che lo limita all'accordo dei padri di famiglia e questo insistere sui padri di famiglia mi fa venire in mente proprio la formazione del giovane Rosmini in Rovereto quella famiglia Rosmini così ampia ma allo stesso tempo così coesa quella famiglia Rosmini serbati lì con padre Piermodesto lo zio Ambrogio che era il vero padre di famiglia anche se non era sposato ma era lui più anziano la madre i figli e beh i veri capi famiglia sono padre e lo zio lui Antonio non contava nulla non conterà nulla adesso lo diciamo il modello di famiglia come nucleo naturale della società è la sua famiglia per Rosmini il modello è l'esempio e l'esperienza della sua famiglia nella quale è vissuto bene in piena armonia per capire questa situazione biografica mi è venuto in aiuto il fatto che sto lavorando al primo volume del nuovo la nuova edizione dell'epistolario completo di Rosmini il primo volume è il volume delle lettere giovanili le lettere del periodo della formazione e lì ho capito ho approfondito ho capito e con me i miei collaboratori che hanno lavorato e che stanno lavorando ecco l'olmini fa una precisazione di questo tipo poi vediamo meglio si dice la società civile essere un'unione dei padri non perché le mogli e i figlioli non possano anch'essi considerarsi come membri di essa ma perché vi debbono essere rappresentati dai padri che riassumono in sé i diritti di tutti i loro soggetti tutti i membri della famiglia soggetti ai padri essi quelli che sono soggetti ai padri si debbono dire cittadini relativi e non cittadini assoluti secondo l'istinzione che noi facciamo tra il proprietario assoluto e il relativo vale a dire sono cittadini considerati in relazione agli altri membri di essa società e non in relazione dei padri cui sono soggetti diventano poscia cittadini assoluti con solo uscire in modo giuridico dalla famiglia paterna però che con ciò acquistano lo stato di padri e si stessi e rappresentano se stessi nella città i cittadini assoluti costituiscono la società civile attiva e governante dove non si è ancora istituita una forma speciale di governo mentre i cittadini relativi non appartengono che alla società passiva e governata quale miglior teoria questa che per Rosmini è l'esperienza roveretana nella quale il vero esponente della famiglia che la determinava diciamo in posizione di governo era Pier Modesto il padre di Ambrogio un semplice episodio posso ricordare Rosmini chiese di poter ricevere gli ordini sacri minori nel 1818 aveva già 21 anni studiava a Padova teologia ma chi ha chiese questi ordini sacri fu il padre per lui e lui dovette determinare con la diocesi di Trento le condizioni economiche per il suo mantenimento di futuro sacerdote visto che la famiglia Rosmini era una famiglia agiata secondo Rosmini Pier Modesto in quel momento era lui il cittadino assoluto e lui figlio Antonio era il cittadino relativo una volta poi costituita per lui la rendita e ottenuti gli ordini sacri minori che poi in realtà non li ebbe a Trento ma tutta una storia complicata anche questa poter avere a Padova questi ordini minori e poi il diaconato a Chioggia insomma e il sacerdozio a Chioggia tutta una cosa un po' complicata perché Trento in quel momento era una diocesi che aveva dei problemi una volta che poteva ottenere questo Antonio poteva avviarsi per la legge austriaca ad essere un po' meno cittadino relativo e un po' più cittadino assoluto sarebbe diventato cittadino assoluto addirittura prima dell'ordinazione sacerdotale il momento in cui per la morte di Pier Modesto avvenuta nel 1820 essendo già mancato poi nel 18 allo zio Ambrogio ereditò tutti i beni di famiglia diventando lui erede in tutto del titolo di pater familias non essendo poi divenuto un religioso col voto di povertà assoluto il giovane Antonio fu ordinato sacerdote a Chioggia nel 21 e non perse alcun diritto sui patrimoni di famiglia che poi andarono a lui fu lui il vero padre familias della famiglia Rosmini Serbati fino alla morte non dobbiamo prescindere da questo esperimento di questa esperienza giovanile della situazione che egli visse e alla situazione che visse durante tutta la vita di capofamiglia Roveretano per capire anche la teoria della società domestica con alcune sue asperità oggi a noi piuttosto difficili da capire il fatto è che Rosmini intendeva condizione naturale quella della famiglia pur nelle sue varie specificazioni e ramificazioni e quindi riteneva che fosse naturale del tutto il patrimonio delle famiglie la sua gestione la sua distribuzione rurale artigianale industriale nell'ordine dei servizi e nell'ordine delle istituzioni le famiglie per natura loro tendono al perfezionamento dei propri membri e quindi entro la logica delle famiglie e dei rapporti naturali si svolge la maggior parte della vita e questo comporta il naturale appagamento una felicità la società civile quindi si sostiene sui padri di famiglia come cittadini i quali mirano a dare una regola alla convivenza delle famiglie scrive Rosmini la società civile avrà ricevuto la più perfetta sua forma allora quando primo le leggi e gli atti di governo non disporanno del valore di alcun diritto di ragione ma regoleranno semplicemente la modalità di tutti i diritti di ragione appartenenti o ad individui o a società mantenendo così la massima libertà razionale secondo davanti a queste leggi tutti i membri delle società civili avranno una perfetta eguaglianza terzo con le persone esistenti fuori della società civile saranno osservate appieno appieno le norme del diritto di ragione questa è la società civile come delineata da Rosmini la coscienza sociale e quindi la coscienza politica anche è coscienza dei beni che hanno origine dalle famiglie e che sono quindi posti in comune e in scambio tra gli uomini e in commercio tra gli uomini coscienza vuole anche dire ragionamento sul modo con cui questi beni devono essere distribuiti secondo diritto naturale scrive Rosmini i beni sono l'oggetto dei diritti perciò le società appunto perché hanno tutte per loro fine prossimo qualche bene hanno altrosì per loro fine prossimo il complesso dei diritti che a quei beni si riferiscono l'oggetto della coscienza deve dunque essere chiaro a seconda che riguardi i diritti stessi sui beni acquisiti o le modalità di essi i diritti stessi sono delle famiglie degli individui la modalità per esplicitare questi diritti appartiene appunto la modalità alla società civile è fondamentale secondo Rosmini che esistano società portatrici di diritti naturali e queste sono appunto le società domestiche le società che sono costituite perché questi diritti naturali devono essere esercitati Rosmini afferma la natura umana la natura umana ribadisco naturalmente si ribadisce esiste come anteriormente alla società civile e la esiste con tutto il suo naturale sviluppo cioè con la modificazione degli individui e perpetuarsi della specie mediante la società domestica individuo e famiglia portano diritti fondamentali questo è appunto diciamo il cardine della dottrina rosminiana quello che può distinguere le esplicitazioni delle diverse società civili è il modo storico di dare ai padri di famiglia il potere di disporre dei propri diritti ecco questo è forse la cosa più interessante che adesso vado a trattare il problema è quello della come la coesione diciamo l'accordo dei padri di famiglia si vanno si vanno determinando e quindi non tanto adesso interessa di vedere qual è il problema del diciamo così non tanto a noi adesso interessa il problema delle forme di governo quanto il rapporto che c'è tra la società civile e quello che naturalmente veniva chiamato ai tempi di Rosmini lo Stato il rapporto tra società civile e Stato ho imparato dagli studi del professor Campanini molto importanti da questo punto di vista che Rosmini ha nei confronti del termine stesso Stato una certa qual diffidenza è pericolosa una dottrina dello Stato se questo Stato venga inteso come assoluto esso deve venire considerato solamente in quanto culmine della società civile il fatto rilevante per Rosmini è che nel pensiero moderno sono delineate determinate concezioni di Stato in termini assoluti ma non tanto Rosmini ha in mente la concezione hegeliana quanto quella obesiana che critica fortemente però quando parla dei limiti dello Stato Rosmini qualche modo forse ha in mente anche la visione hegeliana che però non conosce fino in fondo e non ha secondo quello che io ho potuto capire e studiare non ha una conoscenza profonda tanto perché chiaro che lo scrive anche fin dalle lettere giovanili non riusciva a imparare bene il tedesco notate bene siamo nell'impero d'Austria il roveretto fa parte del tirolo italiano ma lo Stato austriaco lasciava agli italiani di usare la loro lingua in pace in tranquillità in armonia non avevano l'obbligo di sapere il tedesco però lui ha provato a impararlo ma poi c'era la sorella che lo sapeva abbastanza bene la Giuseffa Margherita lo Stoffella il suo amico insomma il tedesco l'ha imparato più tardi più tardi ma mai in modo da poter diciamo così essere fare delle letture approfondite eccetera eccetera beh siccome appunto conosceva la concezione gheliana quindi per via indiretta beh chiaro che sapeva benissimo che nella concezione gheliana lo Stato era il culmine dello sviluppo dell'eticità dello spirito oggettivo e quindi naturalmente c'è l'affermazione dello Stato che assume le funzioni e il significato sia della famiglia che della società civile e riassume la società civile nella visione gheliana rappresenta la necessità di oltrepassare le famiglie entro un orizzonte più vasto ma lo Stato a sua volta deve superare la dinamica esistente tra famiglia e società civile di un organismo etico che realizzi la concretezza del vivere sociale entro una struttura politica in cui ogni individuo sia naturalmente portatore di un'esistenza superiore e quindi non possa stare fuori di essa non abbia più una sua autonomia fuori di essa questa concezione gheliana che si trova presente negli lineamenti della filosofia del diritto ma anche già delineata nell'encicopedia del 17 questa concezione gheliana certamente Rosmini non la condivide infatti Rosmini non pone lo Stato come sintesi risolutiva del conflitto tra famiglie e società civile ma come rigorizzazione realizzazione del governo che si dà della società civile il roveretano ritiene che la società civile storicamente si sia strutturata in un modo che spesso ha visto prevalere il diritto di un individuo solo di un solo pater familias il quale è inteso sottomettere tutti gli altri e quindi qui delinea una sorta di ideale quadro della dottrina dello Stato quadro dello Stato come Stato dominato da un signore un solo ma attenzione non è la forma di governo monarchica è un'altra cosa il signore che in qualche maniera attraverso usurpazioni attraverso i consensi anche diciamo così magari non non bene manifestati può concepire la sua signoria tanto si suppone che il signore che vi presiede sia una sola persona individuale e si suppone che il signore sia una persona può essere anche una persona collettiva ma diciamo così attribuisce al governo i diritti che ha un signore sopra i suoi servi nella società antica c'era la schiavitù c'era la servitù ecco quel signore ha nei confronti dei sudditi lo stesso tipo di potere il fatto che in questa trattazione Rosmini aderba i termini di Stato indica che si sta occupando attenzione del governo della società civile non della sola società civile di tutta la società civile del governo quindi come governo esiste questo fenomeno del governo di uno o di più come governo signorile il governo signorile è tipico della società feudale la società feudale ha prodotto dei guasti notevoli come è noto dalle cinque piaghe anche sulla vita della chiesa sulla vita delle comunità religiose dei vescovati eccetera eccetera questo governo signorile ha preteso di asservire ai propri scopi le cellule fondamentali della chiesa e quindi in qualche maniera questo governo signorile non vede il favore di Rosmini non vede il favore di Rosmini c'è poi un'altra ipotesi di governo statale quello della tutela il governo per tutela dice Rosmini governo la persona che ne è investita può essere tanto un individuo quanto una collezione di individui e basta in qualche maniera concepirlo attribuendo al governo i diritti che le leggi attribuiscono a un tutore di pupilli cioè la minore età del giovane rende possibile a questa persona di necessitare interamente il suo potere il governo per tutela assicura i governanti cioè i vari paterfamilias la protezione dei loro interessi ma lo fa senza direttamente chiedere il loro parere la delega a proteggere si presuppone che ci sia ma non è detto che sia manifesta si introduce quindi la nozione di un governo che è accettato dai paterfamilias in quanto non si sentono in grado di tutelare i propri diritti naturali e poi finalmente c'è un terzo modo di concepire il governo e quindi lo Stato finalmente si può concepire lo Stato come una società la quale abbia un'amministrazione o governo proprio e veramente sociale lo Stato inteso nel senso più corretto altro non è che il governo dei paterfamilias i quali si sentono rappresentati da una persona o da un gruppo di persone che sono da loro espressamente delegate per amministrare determinati interessi e appunto per regolamentare l'esplicitazione di diritti quindi la regolamentazione di diritti che è fatta autoritativamente nei governi signorili e per tutela qui questa regolamentazione di diritti è delegata espressamente con atto espresso e consapevole da parte dei paterfamilias naturalmente queste persone che sono governate cittadini dello Stato che ha un governo civile sono consapevoli che hanno fatto una delega a un monarco a un gruppo di persone ma sono anche consapevoli e hanno la coscienza che queste persone non possono prevaricare andare oltre quello che è lo scopo del governo e della società civile cioè regolamentare i diritti le esplicitazioni dei diritti così riassume Rosmini tra gli Stati che ci furono al mondo che ci sono anche al presente non mancarono non mancano quelli che furono e sono ordinati da norme derivanti da ciascuno dei tre principi che sono stati sopradetti ma egli è chiaro che i primi due concetti non costituiscono popoli liberi solamente quando uno Stato si è ordinato secondo il terzo concetto la nazione la nazione gode della libertà politica infine mi rimane la parte applicativa cioè cosa ha fatto Rosmini all'interno della sua missione romana e in qualche modo per applicare questi principi cioè per fare sì che nascesse uno Stato solo di tanti Stati italiani una sola società civile di tante società civili eccetera eccetera brevemente brevemente tanto Rosmini sempre dopo quella frase che ho citato cita un'altra importante e dice la perfetta forma della società civile diciamo ha stabilito i beni in cui si può ospirare e fa un ordine molto teorico ma molto interessante dei beni cui può aspirare la società civile governata secondo quello che abbiamo detto primo garantigia di tutti i diritti con pronta efficace giustizia uguale per tutti naturalmente questo elenco di sette punti e poi quello che sono i beni che deve garantire la costituzione di una società appunto di uno stato diciamo ben ordinato di cui Rosmini si è occupato molto nell'opera appunto la costituzione secondo la giustizia sociale garantigia di tutti i diritti secondo concorrenza a tutti i beni sociali o d'altro genere ugualmente aperta a tutti siano persone individuali o collettive e quindi terzo facilità di migliorare la propria fortuna con l'assicurare per gradi ed uffici sociali in ragione della maggiore idoneità quarto sviluppo progressivo di tutte le industrie gli studi gli ingegni eccetera e quindi quinto migliore possibile condizione economico morale del maggiore numero dei cittadini al quale non potranno più mancare i mezzi per soddisfare i loro primi bisogni sesto popolazione equilibrata con la produzione settimo e sono otto i punti scusate non sono sette settimo questo è interessante per noi forza nazionale massima contro gli esterni nemici quindi una società stato ha anche una forza nazionale massima cioè anche una forza militare ottavo fiorimento della religione e degli istituti benefici che provvedono a quei poveri che rimanessero privi dei detti mezzi così messa la cosa come vedete lo stato assicura il benessere sociale non è uno stato sociale ma assicura il benessere sociale laddove diciamo così questo benessere sociale non permettesse a tutti diciamo così di provvedere ai propri mezzi di sussistenza ecco che deve fiorire l'intervento della religione che è l'ultimo punto questo è interessante perché tra tutti i beni che discendono dalla forma perfetta di un suo senso civile che diventa col suo governo uno stato uno stato civile è la forza nazionale quindi in qualche modo anticipa con questo discorso l'ideale di realizzare una coesione una coesione tra i vari stati esistenti adesso brevemente abbandono il testo per dire due parole ma brevemente per poi chiudere su come Rosmini pensava di superare il dissidio tra il papato e la nazione italiana pensava di superarlo affidando alla confederazione italiana cioè all'insieme degli stati che avevano aderito alla confederazione il compito attraverso la dieta nazionale cioè attraverso un organismo composto da rappresentanti dei parlamenti e dei principi italiani attraverso questa dieta nazionale anche il compito di valutare i rapporti con gli stati esteri e in particolare per assicurare la sicurezza dello stato nuovo deliberare anche l'eventuale dichiarazione di guerra dichiarazione di guerra in questo caso all'Austria ma il papato beh il papato a questo punto cioè lo stato della chiesa era uno dei tre perché ad aderire a questa confederazione Rosmini pensava che in primo luogo potessero essere il regno di Sardegna lo stato romano e il gran ducao di Toscana e che in stand by in attesa fosse il regno di Sicilia con problemi notevoli bene questi tre stati che aderiscono alla confederazione italiana attraverso la loro dieta nazionale stabiliscono lo stato di guerra all'Austria il papa che è capo della chiesa universale da un lato che è capo dello stato romano e che è anche garante dell'applicazione della confederazione italiana che quindi ha più ruoli in questo modo il papa pur avendo più ruoli in qualche modo non è direttamente lui a determinare uno stato di guerra contro l'Austria anzi col sistema dei nunzi apostolici che rappresentano la chiesa universale il papa continua a mantenere rapporti con l'Austria e con tutti gli stati che eventualmente fossero in conflitto con il nuovo stato italiano il papa rappresenta di questo stato italiano la garanzia morale ma non la garanzia politica che è affidata a un esecutivo che è un parlamento il parlamento è la dieta nazionale l'esecutivo è un esecutivo nazionale di emanazione di questa dieta questa soluzione di cui ho parlato anche l'anno scorso per la verità presentando il volume su Rosmini per l'unità d'Italia beh questa soluzione naturalmente non fu accettata però però a ben guardare e ribadisco anche quest'anno sulla base dei principi che ho enunciato relativi alla società civile relativi al concetto rosminiano di stato in base a questi principi era naturale che per la consapevolezza della felicità del popolo italiano si arrivasse a questo passaggio dalla coscienza degli stati regionali dalla coscienza che i cittadini avevano ciascuno per il proprio stato chiamiamolo così regionale a una coscienza complessiva dello stato nazionale che portava a un livello superiore di appagamento e di realizzazione che abbiamo visto dei beni dei cittadini e questo scopo era superiore all'altro scopo all'altro scopo all'altro bene questo bene nazionale era superiore secondo Rosmini al bene che era quello che per la chiesa universale era non fare la guerra per la chiesa universale era legittimo e lecito non fare la guerra infatti non era la chiesa universale non era il papato in quanto tale a dichiarare la guerra ma era la confederazione italiana di cui faceva parte lo stato romano questa soluzione questa soluzione naturalmente non fu accettata minimamente o meglio trovò trovò anche persone all'interno della chiesa che accettarono questo vi dico un episodio Manzoni era proprio convinto così convinto che il disegno rosminiano fosse generoso ma non ma non realizzabile che lo disse apertamente al suo caro amico anche al ritorno dalla sfortunata missione romana ma soprattutto Manzoni riteneva che bisognava dare un colpo di spugna al potere temporale cioè per Manzoni era il potere temporale che andava eliminato e allora si sarebbe realizzato veramente diciamo così sarebbero finiti i conflitti tra la nazione e il papato perché non esisteva più un papato temporale basta a questo punto nelle cose temporali decideva lo Stato italiano uno Stato unitario non più assolutamente uno Stato federale ecco ebbe ragione Manzoni ma Rosmini aveva tentato ha fatto del suo meglio per dare quindi allo Stato romano particolarmente debole e difficile di gestione per dare questo Stato romano un indirizzo che avrebbe risolto la questione e avrebbe evitato l'aprisse della questione romana avrebbe risolto la questione nazionale e avrebbe evitato l'aprisse della questione romana non avvenne questo noi possiamo considerare però che al di là di questo la concezione rosminiana della società civile sia una ricchezza da perseguire anche oggi il tema della coscienza politica come Rosmini lo vede così ampiamente dovrebbe essere meditato a mio avviso anche dai politici cristiani che oggi anche in Italia stentano a trovare una loro collocazione e stentano a prendere delle iniziative relative alla felicità del popolo italiano grazie 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 a tutti grazie a tutti